Ciao bimbi e ciao bimbe! Io sono Barbara Domenici e sono Alice Domenici e benvenuti in un nuovo video slime E ben arrivati ai nuovi arrivati perché ci sono anche quelli nuovi che non ci conoscono Sì, il nostro canaletto è diventato un canaluccio da canale, canaletto canaluccio Quindi oggi cosa facciamo? Un video ricetta Quello che mi piace tanto alle mie bimbe Anche a me Ti piacciono cattivi di ricetta? Sì Ma se non li guardi Li guardo! Non ti vedono che mi stai guardando male Fai vedere le unghie? No Poi fa tutti i giochini che si ripinge le unghie e poi guarda là Ieri ho messo lo smalto alle unghie, poi c'è attaccato l'unghia finta e poi di nuovo l'ho messo e l'ho messo nel fornino E poi il risultato? Mi faceva schifo E quello lì? Fagliele vedere il risultato No Ma perché Mi imparerai? Ma perché C'ho le mani che non vanno bene Sì, è colpa delle tue mani che non vanno bene? Sì No, vanno di molto bene le tue mani Poi le tue mani sono bellissime perché sono lunghe come quelle della zia Però le tue unghie sono piastriccione come te d'altronde Me le fate poi Ma che ti faccio? Hai dieci anni, ti faccio vedere No, solo per mettermi questo smalto e questo fatti qui No, stai da senza smalto perché sono più belle, fidati Ora vanno di moda così Vanno di moda, azia diretta Incominciamo con la ricettina di oggi E mettesci subito ora, a questo momento Like 3, 2, 1 Like Subito mettetelo, se no poi ve lo dimenticate La ricetta la vedete già? Ve l'ho già messa Mariangela Genovese, però è Chiara Sì che ciao Ciao Chiara Ti mandiamo un grandissimo bacio Baccio Tutto tuo e la tua ricetta ha vinto In una ciotola Ce l'abbiamo? Sì Metti acqua 3 gocce 2, 4 1.000 gocce Quindi Un pizzichino di bicarbonato Non ci arrivi a fare il pizzichino Aspetta, te lo faccio il pizzichino Questo è un pizzicotto Ah beh, questo è un pizzicotto Questo è un pizzicotto Aia Ti fa male anche lì? Dai, rimani lui e giuira Poi Ci fa mettere Sale Non si chiama sale Eh, lo so, ma ha scritto sale lei Eh Hai sbagliato Ho sbagliato Chiara Si chiama polverina magica di stelle e di unicorni Fatati Di bosco E di sirene Aspetta L'ho rotto, però non ci spiega nulla Vi faccio il tappo Così vi ricordate che non è sale Eh, vai L'ho rotto per levarci l'etichetta Mannaggia Allora tu fa Aspetta, aspetta perché io ti conosco Mascherina Beh, metti la fata di stelle Rimani lì e giuiratelo Ma Eh, acqua e sale bierbonato A casa ci si potrebbe sterilizzare le bierbonato Due Bello, eh? Lo prendo nel nostro sale Ma lo voglio far vedere, le bimbe Non sono scotte Dentifricio? No Poi ci dice Si, un'altra ciotola Chiara Cara Chiara Chiara La Chiara Chiara Ci fa allontanare questa ciotolina C'è voi scritta Allontana la ciotolina E prendi un'altra ciotolina E metti dentro un cucchiaio di dentifricio E un cucchiaio di svelto Ma noi diminuiamo le proporzioni Facciamo un meso cucchiaio di svelto E un meso cucchiaio di Come si chiama? Faglielo vedere Il menta dent Ah, non è il dentamento? Il dentamento Prego, signora Mezzo Meso, meso però Meso, meso Perché noi fare piccolo slime Come è bellino Basta, basta Lascialo, guarda Lascialo e leva le mani Con le unghie belle Faccio io Faccio io Faccio io Fanno a me perché oggi sono C'ho l'ansia Ah, questo è lo svelto Il nostro sapore bello Che si usa in tutti i video Perché è quello che funziona Ecco perché la Bim è stata brava Perché sicuramente questo funziona Ma ha scritto proprio svelto Svelto Ha scritto la mano È la prima che ha scritto la mano Grande, Chiara La marca era veramente importante Per noi Vado? Vai Vabbè, magari non funzionerà Perché non ci dice nemmeno di metterlo Né in frigo Né in congelatore Né in microonde Né sui fornelli Né sotto il letto Né sull'armadio Non ci dice nulla Non ci dice nulla Ah no È la tua official Linetta Basta official Linetta Basta official L'avevi imparata Mi parevi bravissima E sei diventata Oh caccola E ora diventa Vede bottiglia Vede svelto diventa Oh mamma Perché oggi mi funziona Oggi non mi funziona niente Oggi è partita una giornataccia Vai mischio Mischuela Mischuelo Comunque Mentre che la zia è fuori Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi nessun video Eccomi Cos'è successo in mia assenza? Nulla E' venuto Dario E ti ha fatto questo Che verde Scacca E scacca Hulk Spacca Alieno Rede Ho detto una cosa Hai detto una cosa alle bimbe? Sì E cosa le hai preso in giro la zia? No Lo vedrai quando Lo monterò il video Dopo un po' mi tocca a telefonare Alice perché l'hai detto Quindi vai No Sei stata brava o sei stata cattiva? Brava Ah ma non c'è Me lo immagino Scriveteci nei commenti Se Alice deve continuare a parlare Fuori Quando io non ci sono Oppure Alice devi stare zitta Io scriverai Alice devi stare zitta No Buttite Le devi buttare qui dentro Ah ma tutto È proprio senza fietà? Dì Alice ovviamente Con le sue maniere Sempre dolce Raffinate Da scaricatore di porto Ha fatto Ha buttato su tutto dentro Così Senza Pensare Senza criteri Il suo stile di vita Quindi Ovviamente Anche se lo svelto funzionava E tutto funzionava Anzi è addensato Ora vado a provare Un pizzichino di sale E Chiara Mi scuserai ma Non so se Dovevamo andarlo a mettere Piano piano ma Ora Alice Per punizione Lo proverà Ora lei In mano proprio Tutte e due le mani No viene Avvicina Tenuti i retti Allontani Questa è stata Una tua punizione E poi dopo Dobbiamo girare Un'altra ricetta Nello stesso video Perciò Sappi che lo girerai Tutta sporca No Mi vado a lavare Chiara Chiara Cara Chiara Cara Chi Di tribosti Cara Chiara Cara Chiara Cara Chiara Scrivetemi nei commenti Se anche voi lo provate Se a voi vi è venuto Abbiamo sbagliato noi Te la risparmio Questa per ora Ok Te la Forse risparmio Ma non è detto Perché ora ne proviamo Un'altra ricetta Quindi Cerca se Te la si Ha fatto Uff L'avevo risparmiata Ne proviamo un'altra E casomai Andrai Verrai punito a lì Quindi Dai proviamo subito Un'altra ricetta La prossima ricetta La vedete già in sovraimpressione Di Samantha La borgna La borgna La borgna La borgna Ma come mi chiamai Facciamo così Ciao Samantha Ciao Samantha Magari solamente la mamma Ma non c'è scritto il nome Per noi Per noi sei Samantha Ciao piccola Samantha Ciao Samantha Sono Alice Un bacione Ciottola E spatola Eh la spatola Non ce l'abbiamo Dovete andare a recuperarla Vedete qua Verde Che domanda Fai della spatola Poi c'è la spatola Sapone piatti Ce l'abbiamo già in ischewena Svelto Svelto Quando Aspetta Farina 00 E qui Colorante E mettere farina Finché non sia densa Allora questo qui Perché non slime Abbiamo capito che è una pasta Visto che a noi ci piace impastare Anche oggi impastiamo Una ciotola Sapore piatti Allora Sapore piatti Visto che Non voglio usare lo svelto Siccome tanto è una pasta E so che questa è densa Le vado a prendere un attimo Se ce ne ho 40.000 Rimani qui Visto che la zia è data via Se siete arrivati fino a questo punto Mettetemi nei commenti Tutti i cuori Tanto la zia lo vedrà Quando Quando lo monterà Il video Ma ora cos'è Le vuttali c'è Nulla Oh ma puoi stai allontanarmi Un secondo E ti racconti Magari vi ha raccontato Non lo so Ma è imbarazzante Su della zia Sì Imbarazzante Sì Mi divertirò Quando monterò Questo video Dai 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 Procediamo Un cucchiaio per Samantha Di Sapore per i piatti Mauriz Viva Mauriz Yeah Un cucchiaio Siamo a me Dario Miscoli nulla Dario appena Mi butto E basta mischiare Zia Non c'è nulla Spatola Ciotola Spatola Sapone piatti Allora Mi dice prima farina Poi colorante Ma noi coloriamo Perché poi è più facile Colorante E ovviamente usiamo Quelli della Progel E lo ha scelto Alice Gelbo Perché la zia Perché la zia Mi ha detto Quando sceglievo Il colorante Di non prenderlo blu Perché ci avresti Rotto le scatoline Ora non dire Come sempre Ma è arancione Ma non è Perché è un pigmento E è giallo Comunque Comunque Non ho rimesso Tantissimo E un'altra volta E ho fatto Un'astra Già prima Cor verde No Io spero che Siccome la telecamera È nuova E questa perde il fuoco E la riprende In automatico Spero che Vediate sempre Tutto nitido Ma se Dovesse rimanere Non a fuoco Purtroppo Ve lo dovete guardare Non a fuoco E che noi Con la Ring light La luce Ring light Dillo lì Mi si chiama Ring light Non vediamo bene Nel monitor Quello che succede Stiamo perdendo Dash Bel di vista Ma Penso che sia Una cosa normale È bello? Yes Molto bello Ma come è bello Bravissima Sammy Tocca a te Vado eh Sì Poi ci fa mettere La farina Ovviamente Finché non diventa Una peste Vai cara Cucchiaio blu Spatola blu Non è una spatola Cucchiaio Un cucchiaio Però vabbè La bimba ci aveva chiesto La spatola Allora non viene Sbagliato Che carino Sembra Un pulcino Sghiaccicato Ovviamente Da qui in poi Lo vedrete Velocizzato Sposto questo Faccio prima Poi a Velocizzarlo Abbiamo 15 secondi Da autonomia Allora Siccome la telecamera Si sta spingendo Abbiamo 8 secondi 7 6 Lo riaddenziamo Cambio la batteria E ritorniamo qui Intanto Ciao 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 Allora Rieccoci tornati E Alice Da sola Per la prima volta Dopo 58 mila mesi È riuscita a fare lo slime E si allunga anche Questo slime Brava Alice A mezzo a pagare la farina C'è un messo Quindi Questo è fatto il danno Ma qui ti sei sperata Grazie Grazie Questo è sciolto Ovviamente Ci dispiami Scusaci Chiara Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Vi mandiamo Un grande bacio Ci vediamo Al prossimo video Ciao